Ciao ragazzi per il nuovo video, oggi signori, signori e signori, è ufficiale, ufficiale, mi hanno preso ai ragazzi di vita, è ufficiale. Signori, questo non lo so quando cominciamo a fare i video su ragazzi di vita, non lo so, questa è una sorpresa che sto facendo ai miei amici. Questa cosa è molto importante, non lo dico a nessuno, nessuno gioco ragazzo, intanto io ho i bloccati gli amici miei, non lo dico a nessuno ragazzo, Questa è una cosa molto importante, ufficiale, sono andato signori, ufficiale proprio, oggi vado a comprare i campini, mi vado a comprare la roba, la roba buona, Cioè, ufficiale, mi dice le ore anche, che cosa mi dice, che mi metto le ore per il ginocchio, però, poi vi mando il video, quello che è successo a me, Dopo, le comando, e poi, ragazzi, però, signori, è ufficiale, sono andato a ragazzi di vita, ciao signori!